Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco che fino a qualche mese fa non conoscevo, ma che è stato un fulmine a ciel sereno e mi sta garbando veramente da morire. Vi parlo di Umbra Turris, gioco di schermaglie fra bande, della Spelcro, che ringrazio veramente di cuore per avermi offerto tutta questa roba per la recensione e mi hanno fatto sapere che nel caso continuasse appunto la nostra collaborazione manderanno tanti altri prodotti perché loro non soltanto hanno il gioco di schermaglie che vedete qui davanti, ma hanno anche un gioco di battaglie fra eserciti. Vi lascio ovviamente il primo link in descrizione dove trovate tutta quanta la roba della Spelcro e ne parliamo a breve dopo la sigla. Umbra Turris, gioco della Spelcro, è un wargame di schermaglie per farvi il classico esempio, per avvicinarvi prendendo prodotti GV potrebbe ricordare un Mordaim o anche un Warcry in ambientazione fantasy, laddove noi andremo a creare delle bande e le guideremo all'interno di questa città oscura, Umbra Turris, che a differenza di Mordaim non è una città in rovina. È una città vera e propria, ma comunque molto oscura, dove ci sono gilde di assassini, c'è molto gioco politico, ci sono anche gilde di combattenti che si fanno le guerre per i territori, e però in questa città ci sono, è pieno di tombe, è pieno di cimiteri, è pieno di dungeon, fate conto, una immensa metropoli fantasy, dove tutte quante le bande, ovviamente molto scura, dove tutte quante le bande di tagliagole e cose del genere andranno all'interno per trovare la loro ricchezza. E qui davanti vedete due rappresentazioni che sono i Nani del Nord, qui alla mia sinistra, e invece alla destra gli Hobgoblin, sono le due fazioni che ci hanno mandato inizialmente e che noi abbiamo chiesto. Una cosa bellissima dei giochi della Spellcrow, ma oggi vi parlo soltanto della variante Skirmish del Wargame, ne parleremo più avanti. Una cosa bellissima che mi piace da morire, che potete comprare direttamente la fazione, cioè scusate, la banda, con la scatolina. Quindi comprate questa, avete comprato la scatolina, per i prezzi sempre il primo link è in descrizione, ci avete tutto quello che vi serve per giocare, basta. Comprate questa scatolina, giocate. Se no, se è la prima volta che acquistate il gioco, e magari lo acquistate anche con degli amici, o volete il pacchettino completo, potete comprare tutta quanta la scatola, che è un set iniziale, e all'interno ci trovate la scatola della banda, le carte dei terrain, le carte delle quest, e da quest'altra parte le carte della magia, di tutti quanti gli attacchi magici, perché ovviamente nella vostra banda ci saranno anche dei castanti. Ora non in tutte e tutte, ma negli Hobgoblin, come vedete questo qui davanti, ad esempio un castante, mentre invece i nani del nord sono prettamente più da corpo a corpo, ricordano anche un po' gli sventratori, gli slayer, più in ciascuna delle scatole, infatti sono due, trovate il regolamento. Quindi se voi comprate il set base dei nani, trovate tutta questa roba qui, con le carte, i terrain, le magie, le quest, più anche il regolamento. Se invece ci avete già tutta questa roba e non vi serve, oppure le carte quest le usate da un mazzo solo, se vi posso dare un consiglio, vi conviene prendere sempre 50 euro fondamentalmente, il pacchettino base, perché almeno ci avete il vostro regolamento, ci avete tutto, e siete apposta, anche perché poi le carte delle quest sono anche personali. Le carte dei terrain, sì, il terrain è per tutti, quindi si usa un pacchettino soltanto, però è sempre bene che ognuno abbia, secondo me, la sua scatolina, così se deve dare un'occhiata al regolamento a casa, per prepararsi la banda, ce l'ha, anche perché in Umbra Turris, tutte quante le regole e le caratteristiche delle bande, che le potete comunque trovare e scaricare anche dal sito, e stamparvele, ma sono tutte quante nel librettino. Quindi se voi andate a vedere gli Halfling, se voi andate a vedere i nani, e se voi andate a vedere gli Hobgoblin che vedete qui davanti, sono segnate le caratteristiche direttamente dentro il manuale, quindi non è che dentro la scatolina trovate le carte, e cose del genere. Ed è per questo che vi dico che, secondo me, consiglio spensierato ed amico, vi conviene prendere direttamente il settino base. Andando ad analizzare il regolamento di questo gioco, è semplicissimo ragazzi, se avete giocato a Mordheim, veramente non c'è da spiegarvi praticamente niente, si va, si gioca col D6, e quando iniziamo il round, ciascun personaggio, ciascuna pedina, può fare un'azione basica, e un'azione aggiuntiva. L'azione aggiuntiva è una cavolata del tipo trovare un tesoro, raccogliere un oggetto e cose del genere, oppure anche nascondersi, mentre invece l'azione vera e propria, attaccare, caricare, lanciare una magia, disingaggiare, comunque tutto quello che riguarda il combattimento, si può fare una volta soltanto. Quando inizia il round, si va a vedere il leader, si va a fare il tiro di un D6, e si applica alla disciplina del leader sul campo della banda. Quello che vince c'è al primo turno, e i turni si alternano, una pedina io, una te, una io, una te, una io, una te, nel classico appunto, anche come vi ho detto prima precedentemente, War Cry mi viene l'esempio più vicino. Se il leader dovesse morire, no? E l'altra banda ha il leader ancora in vita, l'altra banda avrà sempre l'iniziativa, se tutte e due leader dovessero morire, si va con quello, con il secondo personaggio, il secondo in comando, che ha la leadership più alta, e si ritira il dado. Quindi comunque l'iniziativa è facile. Quando si vanno a fare i combattimenti, c'è la possibilità di spostare le miniature per quanto si spostano, con la caratteristica movimento, c'è la caratteristica anche dei riflessi, o meglio dire, dell'agilità, che serve per superare delle prove, saltare da un edificio all'altro, oppure provare a nuotare e non affogare, semplicemente lanciarsi di sotto e non troncarsi una gamba, e cose del genere. E poi, quando si arriva a fare il combattimento, hanno, secondo me, introdotto una cosa veramente molto molto carina, che a noi piace da morire. Tra l'altro, piccola parentesi, poi vi faremo vedere anche qualche miniatura dipinta, così da farvele vedere al meglio. Quando si va a fare il combattimento, noi, inizialmente, all'inizio del turno, si mettono dei dadi da sei davanti alle miniature. Questo sta a identificare che la miniatura deve ancora essere attivata. Quindi, se questa miniatura è stata attivata, il D6 viene tolto, così da ricordarcelo. Quando si va a fare il combattimento, ci sono delle location. Fate conto, 1-2 è un colpo alle gambe, sempre col dado da sei. 3-4 è un colpo al petto, 5-6 sono danni alla testa. La prima fase del combattimento, facciamo conto che questo va a combattere contro questo nano, questo hobgoblin, noi si va a prendere il dado senza tirarlo, e lo nascondiamo. Per la location che vogliamo attaccare, quindi se vogliamo attaccare alla testa, nascondiamo il dado con un 5 o con un 6, ad esempio. Quello di là, non sapendo dove andremo ad attaccare, deve organizzare la difesa, e magari lui penserà, ma secondo me mi vuole attaccare alle gambe, quindi magari mette 1-2. Tiriamo fuori i dadi, se l'attacco va a colpire una locazione che la difesa non ha difeso, l'attacco entra, ma non è finito lì, perché non sembrerebbe la battaglia fra due ciechi. Quando si va a fare questa battaglia, questa è la prima fase, perché se lui para, non si va nemmeno a tirare i dadi, se non para, si va avanti. Ci sono tre tipi di attacchi, che sono attacco rapido, attacco normale, e attacco di potenza. L'attacco rapido fa sempre danni standard, però se è più veloce ad attaccare, magari gli buchi la difesa, e soprattutto l'attacco rapido e di piercing passa alle armature. L'attacco forte è quello che incrementa i danni, quindi nel caso tu lo vada a colpire soprattutto alla testa, lo potresti anche stunnare e fargli molti più danni, l'attacco standard è quello normale. Io tiro la mia abilità di combattimento, te tiri la tua, parità non succede niente, vinci te non succede niente, se invece vinco io, si va a vedere di quanto ho superato il tuo check, magari se l'ho superato di due o tre punti, sono due o tre danni che ti faccio, perché tutte quante le armi del gioco non hanno un valore di danno, hanno un valore di danno soltanto le magie e le armi a distanza, magari la balestra fa sempre un danno, la doppia balestra, quelle piccole tipo a pistole, fanno sempre due danni, un colpo andato a segno con le armi da corpo a corpo non ha danno classico, ma magari potresti usare un'arma che ti potrebbe dire fai più una al danno, quello ci sta, però comunque il danno è sempre dato dalla differenza di quel tiro che vi ho detto poc'anzi. Quindi come avete visto come il regolamento è veramente semplicissimo, facilissimo e per farvi vedere ora anche cosa ci sono dentro questi set, ve lo faccio vedere da vicino, però le regole sono veramente ragazzi molto 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 facili. Ed è per questo che vi dicevo ognuno di comprare direttamente il set di base perché ci sono proprio i terrain fisici, ci sono degli scrigni perché magari la missione ci chiede di andare a prendere dell'oro, ci sono dei varili e ci sono anche delle basettine, quindi effettivamente c'è anche della roba qua dentro e poi ci sono queste carte che sono comunque in un formato piccolino ora vi faccio vedere da vicino che sono le carte dei terrain per quello che andremo a fronteggiare in battaglia e quindi praticamente il setup del campo di battaglia che ci fa vedere in che zona della città ci troviamo con magari le regole scritte appunto qua sotto e gli altri set di carte che poi sono quelli delle quest quindi le missioni che verranno estratte e sorteggiate all'interno della partita e abbiamo per ultimo ma non meno importante il mazzo delle magie dove all'interno appunto troverete tutte quante le magie che i vostri castanti potranno usare e ora vi facciamo vedere da vicino le miniature che poi qualcune ve le dipingeremo per farvi vedere in un altro video questi sono gli Hobgoblin guardate veramente bellini e anche il dettaglio ragazzi è altissimo mi garba da morire lo stile che stanno usando per questo gioco è veramente molto evocativo e fantasy e da quest'altra parte i nani del nord che sono delle specie di sventratori tra l'altro bellino questo qui con l'ascia alzato sulla testa c'ha il barbone e c'ha le zanne come se fosse un piccolo scinghialotto e vedete anche tutti gli altri accanto sono ragazzi veramente bellissime e molto evocative in conclusione questo Umbra Turris della Spelcro è un gioco per tutti i palati di schermaglie ma se andate sul loro sito che vi metto il primo link in descrizione hanno anche proprio miniature per battaglie campali e anche quello mi piacerebbe provarlo detto onestamente quindi assolutamente un bel gioco ovviamente il tavolo va arricchito con un po' di scenari magari ci mettete un po' di montagne alberi tutta roba che se volete come vedete nota a video nel negozio di mia moglie stampiamo in 3D direttamente vi lascio anche trovate sempre il link in descrizione Electra 3D Print che è la pagina Facebook il negozio di mia moglie nel caso vogliate degli scenari fossero qualsiasi cosa una casetta un ponte qualsiasi cosa che venga a mette noi la possiamo stampare e è un gioco veramente molto interessante e costo contenuto è andata a vedere direttamente dal loro sito io ringrazio la Spell Crew e ci vediamo in un prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi